Per tre giorni, a partire da venerdì 20 aprile, Acate festeggerà il proprio protettore, San Vincenzo Martire, diacono di Saragozza. Fede, spettacolo e folclore si fonderanno in tutt'uno, richiamando nella cittadina migliaia di forestieri provenienti da tutti i centri limitrofi. Anche quest'anno, ha sottolineato il sindaco Franco Raffo, grazie all'impegno di tutti e soprattutto dai volontari, di coloro che amano la tradizione, la storia e hanno a cuore il bene di Acate, si è predisposto a un programma di tutto rispetto, anche in considerazione del forte richiamo del nostro santo. Tra tutti gli eventi in programma, un ruolo fondamentale sarà ricoperto dallo spettacolo equestre, che da sempre affascina, senza far assolutamente rimpiangere la mancanza del palio, potenzialmente fattibile, ma non più su corso indipendenza, in idonio, a rispetto delle disposizioni delle leggi in materia. Lo stesso corso indipendenza, quindi opportunamente transennato per la tutela di chi esibisce e degli spettatori, vedrà sfilare nel corso dei tre giorni dei festeggiamenti, splendidi cavalli, bande e gruppi folcloristici. Ma la ciliegina sulla torta sarà rappresentata dal primo galà di cavalli americani, che si terrà sabato pomeriggio e domenica mattina in piazza Matteotti. Grazie.